ecco in diversi video ho detto che davanti a casa mia adesso passa la ferrovia passa il trenino trenino delle io lo chiamo trenino in modo confidenziale diciamo no perché perché mi piace mi tiene compagnia ecco chi arriva ecco come vedete non fa troppo rumore di giorno sono 6 vagoni e alla sera invece mi pare che siano solo tre perché c'è meno gente che lo prende e niente non approfitto per far vedere bene ecco la vista nella la casa mia ecco qua il prato qua sotto e qui c'è il resto e niente ci tenevo il passaggio del treno perché quando magari passo qualche giornata in casa mi fa compagnia specialmente oggi che che domenica ecco c'è sempre il genio con 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 l'arley non manca mai e niente ecco qui di fronte a me c'ho tanto verde c'ho degli alberi o delle palazzine di fronte più più vecchie ruoli più nuove là in fondo ecco basta ci tenevo a far vedere il passaggio del trenino perché magari in alcuni video si sente il rumore dietro e loro uno dice ma cos'è cos'è che sta succedendo ecco è il treno l'avete visto ciao